Ciao a tutti, bentornati nelle pillole al 92.000, oggi per lo spazio dedicato alle discoteche, su richiesta di Claudio Van Buren, vi parlerò della discoteca Covo di Finale Ligure. E allora siete pronti? Vai con le pillole al 92.000 di oggi! Il Covo sul porto di Finale Ligure era stato fra gli anni 80 e 90 uno dei punti di riferimento per i discotecari, non solo i più giovani. Più di recente, le parentesi in cui il locale si era chiamato Matisse Disco Pub e The Gare Sexy Disco Night. Il nuovo Covo inizia la sua avventura nel luglio del 2009 e per quattro anni continua a far ballare estate e inverno con un'ampia gamma di serate. Il Covo ha infatti riproposto serate storiche come la Domenica Latina, ma ha anche saputo innovarsi trasformandosi ogni estate. Tra questi, non trascurabili, i primi beach party del lunedì e del giovedì nel 2010, le serate Pomiglia e The Moon che hanno fatto ballare il martedì e il venerdì nel 2011. E la vera rivelazione del 2012, il venerdì Fluo Party. Per quattro stagioni, inoltre, a ferragosto il Covo ha ospitato lo Schiuma Party, trasformandosi in un'enorme piscina di schiuma dove gli avventori ballavano fino all'alba, secondo la tradizione di Ibiza. Nel settembre del 2009, agli albori della sua carriera, Christian Marchi chiuso la stagione estiva del Covo. Ogni estate, inoltre, ha visitato il locale finalese Gigi D'Agostino, pietra miliare della discoteca italiana. Nel 2013 è arrivata la chiusura, ma dopo qualche anno ha nuovamente riaperto con il nome di Covo Music Cafe, che poi chiuderà definitivamente nel 2021. Per quanto riguarda il periodo, anni 90-2000 non ho trovato video in rete e vi faccio vedere alcuni estratti di serate più recetti. Partiamo da questo After Movie con Tatanka del 2017. Partiamo da questo After Movie con Tatiana del 2017. Partiamo da questo After Movie con Tatiana del 2017. Partiamo da questo After Movie con Tatiana del 2017. Partiamo da questo After Movie con Tatiana del 2017. Partiamo da questo After Movie con Tatiana del 2017. Partiamo da questo After Movie con Tatiana del 2017. Proseguiamo con Ginger il Comandante Ego Goffade il Capodanno 2018. La console magica di questa notte, è in arrivo un gradito ritorno in riviera, com'è che si cantava più? Ginger non si beve ma si suona, ginger non si beve ma si suona, comandante ginger. Esattamente alle 3.20 della notte, è una notte più lunga dell'anno, dopo la musica di Bruno Bauer, in arrivo la musica del Commander. E allora bisogna dirlo, è una produzione di Bruno Bauer questo disco. Happy New Year, Carlo, tutti gli amici della Val Barmina questa notte, tutti gli amici di Savona, Genova, Finale, Pietra, Loano, Sanremo, e amici di Bruno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Speciale Capodanno è 31 dicembre, anzi ormai il primo gennaio. Grazie a tutti. Il ritmo è martellato, allucinante, comandante, Ginger. Ginger non si vede, ma si suona. No, 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 no. No, 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 no. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Buon 2018 Io cosa bevo? Io voglio la bevanda che mi mette le ali Come anzi Liguria che balla Voglio sentirti un'ora Auguri Simo Anche gli amici di Parma Suona Ginger Grazie per la visione 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 Grazie per la visione